Partono piano Pelé e My Little Boss, tra quelli della seconda fila, allo stacco all'interno molto veloce Igor Dasolo, inseguito all'esterno da Nuvolari Grad tra i due, Peseta e Leone Laser mentre ha sbagliato Maverick Vita. Nuvolari Grad deciso all'attacco di Gordasolo che sembra intenzionato a cederle il passo, segue lungo la corda Nonno Borgi. Nuvolari Grad in 400 metri scarsi passa sulla condiscendente di Gordasolo. Comunque il quarto iniziale è in 29 e mezzo per Nuvolari Grad di Gordasolo, all'esterno rimane Peseta che punta sul leader, terzo alla corda c'è Nonno Borgi con vicino Niklas F che è partita bene dalla seconda fila. Nuvolari Grad che si oppone a Peseta, i primi 600 metri sono in 44 scarso con Igor Dasolo che tiene il contatto mentre Nuvolari Grad si difende da Peseta. Insiste quest'ultima ma Nuvolari Grad mantiene la posizione interna e a metà gara ci si arriva in 59 e 4 con Peseta che insiste e sopra avanza Nuvolari Grad. Nuvolari Grad accenna a spostare dalla corda di Gordasolo, poi Nonno Borgi, Niklas F, ancora Impero e K e gli altri. Nel frattempo chilometro in 1.15.5 con Nuvolari Grad che ora rientra a Peseta e difende la posizione. Rimane all'interno di Gordasolo, attacca invece ora in terza ruota Niklas F che scatta decisa, gira Peseta, punta sul Nuvolari Grad. Mentre i primi 1200 metri vanno via in 1.31.5 con Niklas F all'attacco Nuvolari Grad, Gordasolo che cerca spazio dalla corda, poi anche Nonno Borgi che cerca di liberarsi. Con Igor Dasolo che prova a infilarsi tra Nuvolari Grad e Niklas F, operazione che gli viene impedita. Nel frattempo scatta a largo Nonno Borgi, Nonno Borgi che stende a passare, Igor Dasolo che deve sgabbiare a largo di tutti. Nonno Borgi che ha passato su Niklas F, Igor Dasolo che può scattare ma soltanto tardivamente. Vince Nonno Borgi su Igor Dasolo con Niklas F al terzo posto resistendo al finish di Leone Laser. Due minuti e tre decimi, 1.16.9 sul mio cronometro per il vincitore Nonno Borgi con Nicola Del Rosso. Perfetto driver, ha molto da recriminare Igor Dasolo che avrebbe potuto spostarsi all'esterno di fronte, ha scelto di rimanere in corda, ha cercato Varco improbabile tra Nuvolari Grad e Niklas F e poi ha dovuto fermare praticamente a secco per sprintare a largo di tutti. Ma il traguardo era troppo vicino, Nonno Borgi e Nicola Del Rosso hanno fatto buona guardia e hanno vinto questa quinta corsa proprio su Igor Dasolo con Niklas F al terzo posto. 2.3.11 l'arrivo ufficioso della quinta di Capanelle. 3.11 l'arrivo ufficioso della quinta di Capanelle.